Per migliorare la qualità dei servizi, la SIA intensifica le attività di raccolta e spazzamento sul territorio, si punta ad ottimizzare le risorse disponibili e si continua ad investire su servizi aggiuntivi, come il call center, lo spazzamento meccanizzato e recentemente la raccolta dei cartoni, che oltre ad integrare quelli già offerti, sopperiscono al progressivo e massiccio pensionamento degli operai. Sono semplicemente dei servizi integrativi che sono storicamente affidati a ditte esterne, stiamo parlando dello spazzamento meccanizzato e il call center. Altri che invece erano stati annunciati già da mesi, come l'appalto dei cartoni, che è iniziato con una sperimentazione in alcuni quartieri e grazie anche all'ottimo risultato avuto, cioè un più 30% della raccolta, si è deciso di proseguirlo. Questo anche con una seconda considerazione in particolare sull'appalto dei cartoni. Asia negli ultimi cinque anni ha perso 350 lavoratori e è andato in pensione e visto anche l'incremento dei servizi che non solo sono stati effettuati negli ultimi cinque anni, ma anche quelli che siamo pronti a fare nel prossimo periodo, come il porta a porta al centro storico e l'incremento del servizio di raccolta anche della carta per le utenze domestiche, si è deciso di andare a vedere quale servizio che avesse il meno impatto possibile sull'utenza domestica si potesse andare a offrire come servizio integrativo esterno. Questo consentirà di liberare risorse per incrementare la raccolta porta a porta, già avviata in alcuni quartieri della città e pronta a partire anche al centro storico. Aumenterà inoltre la pulizia delle strade con le spazzatrici meccaniche, un servizio che da oltre dieci anni Asia fornisce anche con il noleggio di mezzi e personale. Già da oggi come servizi esterni siamo con 14 spazzatrici e ne abbiamo altri dieci servizi che riusciamo a garantire internamente. Ovviamente l'impegno è anche quello di migliorare il servizio interno con spazzatrici che siano sempre più adatti al territorio. Con quest'ultimo appalto siamo andati a incrementare i servizi per migliorare uno dei servizi su cui più la gente ha attenzione. Per fortuna io dico perché significa che con una città più pulita si ha sempre più attenzione anche al decoro e allo spazzamento della città. Tra i servizi di Asia, lo ricordiamo, rientra soltanto la rimozione di rifiuti urbani e differenziabili e demandato invece a ditte specializzate, individuate attraverso apposito bando di gara, lo smaltimento di cumuli speciali e pericolosi. In quel caso la responsabilità sarebbe di chi le ha sversate, secondo la legge e secondo la 152. Qualora non si riesca a individuare il responsabile, secondo la legge, il sindaco e quindi il comune di Napoli a doversi far carico di questa rimozione. Questo appalto a Asia ha dato molta attenzione in questa funzione, tanto da operare internamente sia sulla parte di selezione, sia sulla parte di rimozione dei rifiuti che sono quelli solidi urbani, ma anche sulla differenziazione. Quindi tutto ciò che è differenziabile Asia lo porta alle piattaforme e ai consorsi. Quello che invece sono rifiuti speciali e pericolosi, ovviamente bisogna dare un affidamento a una ditta esterna perché sono rifiuti che non possono essere portati secondo i canali ordinari che utilizza Asia.